Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Cari amici, siamo con ospite una band di, possiamo dire, quasi sani musicisti che parlano, cantano soltanto canzoni di cartone animati, ma veramente fantastici. Li pronunciamo, a questo punto ci avviciniamo e ci facciamo dire come si chiama il gruppo. Noi siamo i The Misfits Cartoon Cover Band, che è un nome molto popolare perché viene utilizzato da parecchie band oltre a noi, ma è il nome neanche nostro. A questo punto la domanda più semplice è che differenza passa tra voi e le altre band? Che solo noi suoniamo le sigle dei cartoni animati, gli altri suonano altro. Andiamo bene, proprio bene. Ma prima cosa, perché l'idea del cartone animato, visto che siamo tutti nerd? L'idea del cartone animato perché fondamentalmente è una cosa che ci accomuna, a partire dai vecchi del gruppo che sono alla mia sinistra, fino ai giovani del gruppo che sono alla mia destra. Il cartone animato unisce, fa socialità, fa bellezza, è bello, l'arte e tutto quanto. Quindi ci mette insieme, ci rende amici, ci fa fare spettacoli, ci fa divertire. Avere già avanti alla gente, molti giovani, ma soprattutto molti anziani che accompagnano i figli a sentire queste canzoni, ma soprattutto alcune canzoni che sono classici per noi, ma per i giovani sono quasi inesistenti. Sono il marasma più completo, non mi può dare una mano lei? Che emozioni ti dà? Che sensazioni ti dà? No, sicuramente apprezziamo perché diciamo che sono più quelli dell'età nostra che ci seguono che i bambini. Quindi quando si chiamano i cartoni animati si sa che non è un richiamo per i bimbi, ma è per 30, 40, 50 e via dicendo. E qual è la canzone che in fondo ti diverte di più suonare perché ti piace sicuramente? Qual è? Non ne saprei dire una in particolare perché le canzoni di cartoni animati, molte di esse, hanno delle parti di basso abbastanza complicate. Perché sei tu che suoni in basso? Perché magari la gente non lo sa. Sì, suono io al basso. E quindi è stata un po' una sfida anche perché prima suonavo un altro strumento, quindi mi divertono un po' tutte. Sei una delle poche bassiste che abbiamo incontrato. Abbiamo incontrato band femminili, solo femminili di rock. Ma una bassista che fa cartoni animati non l'abbiamo mai incontrata. Quindi sei anche la prima e avere accanto, in fondo, abbiamo detto quasi sani. Chi è il più sano del gruppo? Io. E il più folle? È una sfida tra Pierpaolo e Stefano. Forse vince Pierpaolo per l'anzianità. Andiamo bene, proprio bene. E ora passiamo oltre, no? Possiamo dire che suonare dal vivo è sicuramente divertente. Però prepararsi e salire sul palco. Qualche cantante ci ha detto, tra cui personaggi famosi, a volte all'inizio, quando salgo sul palco, prima direi ma chi me lo fa fare? Poi ti vedi la gente di fronte che si emoziona, salta, ride, piange dal ridere. Oppure vi lancerò con motori? No. Non è mai successo, fortunatamente, finora. Sì, pure io ho questo sentimento prima delle serate, cioè tipo, no, basta, non canterò mai più, è l'ultima volta, non ce la faccio, odio tutti. No, non è vero, però diciamo che dopo vedere il calore del pubblico, vedere le persone che battono le mani, chi partecipa, è molto entusiasmante. Dunque a quel punto poi inizi pure tu a fare un po' di casino sul palco, poi con loro è semplice perché, insomma, diciamo, sono un branco di matti. Perciò questo soprattutto, questo proprio fuori di testa. E usare alcuni vostri compagni di avventura musicale dei cartoni utilizzano vestirsi con i cartoni. Voi questa cosa la fate? Io essendo un fan degli anni Ottanta mi abbiglio come se suonassi negli Europe, quindi, no, allora, diciamo che il nostro abbigliamento è abbastanza normale, per così dire, rispetto, per esempio, appunto, come dicevi tu, al resto delle altre cartoon cover band. Forse noi puntiamo un po' di più sulla simpatia, piuttosto che sul look e sullo show. La realtà ce la facciamo spiegare, effettivamente, no. No, è vero quello che dice Claudio, però l'idea nostra è stata proprio quella. Visto che tutte o quasi le cartoon cover band si vestono come personaggi cartoni animati, se vuoi distinguerti, non lo fai. E invece questa maglietta come nasce? Non è fichissima. Non è fichissima questa, scusami, te lo lascio dire a te. Come nasce? È fantastica. Così? No, questa nasce da una collaborazione della band con un artista di Marina D'Altidona, anzi, D'Altidona, che si chiama Francesco Massetti. È un disegnatore, fumettista, insegnante di disegno, più tanti altri lavori per sbarcare il lunario. Molto bravo, abbiamo fatto questa maglietta, siamo fatti fare un altro disegno che ancora non abbiamo utilizzato e ci abbiamo in programma di collaborare ancora con lui. Ok, proseguo da lì. E mancava l'ultima parte che in realtà in uno spettacolo su una band il batterista abbiamo capito che è sempre quello dietro che nessuno vede. E probabilmente quello che è nascosto di una batteria ogni tanto si affaccia e dice forse sono qui? Quando mi presentano sì. È la batteria Pierpaolo Sita. E sono io. E suonare, veramente, la domanda te la ripongo anche a te. Suonare con tutte queste persone che ti saltano davanti, ma ogni tanto hai la sensazione di lanciare a bacchetta? No, sì. Vorrei saltare anch'io, ma purtroppo è una postazione in cui sono seduto e non mi fanno suonare in piedi. E quindi niente. Sono immobilizzato dietro la batteria, dietro le pelli. E quando scendi al parco che la gente comunque alla fine ti vede e ti dice, ti fanno domande, o almeno c'è qualcuno che prova a dirti domande in evento allo strumento che suoni, oppure ti chiedono qualcosa di particolare sulle canzoni? Ma qualche volta sì, ma niente di che, niente di particolare. Ma niente. Bravo, continua così. E invece noi per concludere, vogliamo chiedere un pochettino, essendo che veniamo un po' tutti sull'amondo degli anni Ottanta, dei cartoni, qual è il cartone che in realtà è rimasto più nel vostro cuore, che veramente comunque lo vorreste rivedere e continuate a vederlo di continuo? Qual è, iniziando dal senso rotatore, ma anti-orario? Beh, io sono cresciuto con Goldrake da quando ero piccolo, quindi penso sia la prima scelta, d'obbligo. È che rimane così, perché l'età è quella. Io sono più per gli anni 90, quindi direi Sailor Moon. Essendo più giovane di loro, vi dico agli Benji. Io mi associo a Giorgia, io pure sono un fan di Sailor Moon da quando ero piccolo. È inutile mi guardare così. Io andrei per il mistero della pietra azzurra. Lo conosci solo tu, lo conosci quella sola di cartoni animato. Bellissimo, eh. Qui c'è un grande assente che è Dragon Ball, il mio preferito è Dragon Ball. Nessuno lo guardava nessuno. Perché sì, perché sono il più giovane e io guardavo Dragon Ball. Mi dispiace. A questo punto mi unisco anch'io. Io sono ancora più giovane e dico One Punch Man. Allora, noi vi ringraziamo e vi diamo appunto... Aspetta, ci siamo dimenticati una cosa. Anche se non facciamo lo spoiler, però abbiamo saputo che c'è una collaborazione importante a livello musicale e che poi nascerà con un bel progetto e tutto. Però c'è una bella collaborazione. Ti dirò, nel senso, per la prossima volta che ci rivedremo, quindi quando ci rivedremo, noi collaboriamo con Ghiomar Serina dei Cavalieri del Re, quindi dello storico gruppo che ha scritto le sigle di L'Uomo Tigre, di... Lady Oscar, o Dio, stanno bruciando tutto. E quindi abbiamo collaborato con Ghiomar per rifare un disco omaggio proprio ai successi dei Cavalieri del Re e di Ghiomar Serina che è in lavorazione proprio in questo momento. Noi abbiamo finito a registrare, abbiamo fatto tutto quello che andava fatto, in lavorazione, deve uscire in breve, quindi poi faremo la presentazione. Ci sarà anche Ghiomar con noi per una prossima intervista con voi. A questo punto noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, riportandoli insieme, visto che in fondo siamo un gruppo di sani, o quasi parzialmente sani, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. E anche questa è fatta. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Grazie.